Il Lions Club Canicattica Stelbonanno, preseduto da Simona Iannicelli, ha utilizzato somme possedute circa 3.000 euro, impegnandole per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiale necessario al personale sanitario che opera al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo. Con questa somma sono state acquistate mascherine, tute idrorepellenti, disinfettante ed altro materiale che è arrivato oggi ed è già stato consegnato al direttore sanitario del Barone Lombardo, il dottor Giuseppe Ogello. Sono giorni difficili, sono giorni in cui tutti speriamo di addormentarci e svegnarci scoprendo che ciò che stiamo vivendo sia solo un brutto sogno, riflette la presidente del Lions Club Canicattica Stelbonanno, Simona Iannicelli. Nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere una situazione del genere, nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter temere un abbraccio e un bacio che per noi, gente del Sud, sono una filosofia di vita. Dobbiamo fare i conti con la realtà e ciascuno di noi lo già sta facendo personalmente, ormai da giorni, ma è importante, oggi più che mai, aggiunge Simona Iannicelli, dare sostanza a tutte le belle parole che continuano a susseguirsi in ogni dove. Sono state notti insonne le nostre, ma alla fine, grazie a veri e genuini amici, siamo riusciti nell'intento. In questa circostanza non abbiamo più tempo per rimandare o differire ed è per questo che con il parere favorevole dei soci abbiamo provveduto ad acquistare quanto necessario il nostro presidio ospedaliero. Atteso che non vogliamo e non ci interessa apparire, ma incidere attivamente, rassicuriamo i concittadini canicattinesi che il materiale acquistato sarà a disposizione del presidio ospedaliero da domani per mettere il nostro personale sanitario nelle condizioni di operare nel migliore dei modi in nostra difesa. Un grazie di cuore a Maurizio Gibinaro, Medico e Lions, a Vito Castiglione e Maria Elena Cipollina, che insieme a tutte le club hanno dato e continuano a dare sostanza a quelle parole che sottendono la preghiera dei Lions. Grazie a tutti voi, conclude Simona Iannicelli, oggi più che mai possiamo essere orgogliosi di dire che il canicatticas del buon anno c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti.